E bella a tutti ragazzi, io sono Nick DeLarge e oggi siamo qui per parlare di un nuovo film dello studio Ghibli che io ho recuperato in sala, faccio questa premessa che ormai vi sarete anche stancati ma la faccio sempre per magari qualcuno che crede solo questo video io non ho visto nulla della Ghibli tolti appunto, i quattro film usciti l'anno scorso, cinque, in sala e quelli che stanno uscendo ora ho deciso di recuperarmi di tutti in sala ed ecco perché appunto questo laputa non l'avevo visto prima il castello nel cielo, quindi alcuni miei pareri, potete recuperare i pareri sulla città incantata, Nausicaa, Mononoke, Porco Rosso, il castello errante di Aul chi chi consegna a domicilio e ponio, adesso di questo, quindi partiamo senza perderci inconvenevoli parlando di questo film che è uno dei primi film della Ghibli, assieme a Nausicaa, che non sapevo appunto che aspettare perché a me la formula Ghibli piace al 50 e 50, mi piace l'idea della Ghibli di ritrarre appunto il mondo del bambino infantile con queste creature magiche, con una delicatezza tale che non possono neanche gli studios americani quindi questo mondo meraviglioso con gli stilemi classici e un'animazione che indipendentemente che se il film mi piaccia o meno è davvero una roba meravigliosa, io comunque quando vado a vedere un film della Ghibli in sala so sempre che rimarrò a bocca aperta per qualcosa perché appunto l'animazione, l'estetica sono delle robe bellissime, delirantemente belle l'altro problema per me è che a volte questo va a sostituire la sostanza di un film quindi sinceramente avevo paura per questo Il Castello nel Cielo per quanto Nausicaa comunque che avesse più trama era davvero brutto ma vi posso dire che a me questo Laputa Il Castello nel Cielo è piaciuto molto è un film d'avventura con tutti i crismi, scritto bene e con dei personaggi davvero interessanti di cosa parla questo Laputa Il Castello nel Cielo questa ragazzina si ritrova con una pietra che riesce a far volare ecco e che può essere la chiave per trovare un unito a questo castello volante appunto quello del vecchio regno di Laputa, Laputa sinceramente non ricordo bene come si accentasse la parola però comunque è che quindi è braccata da più persone dall'esercito, da dei pirati che sono una famiglia di pirati con tutti i figli e la madre che vi capita e appunto poi dall'altra parte c'è questo ragazzino di campagna che la troverà e l'aiuterà a scappare da questi uomini a capire chi è lei veramente una persona che io conosco da Tarkinam che ha visto Il Misterio della Pietra Azzurra mi ha detto che è lo stesso Incipit è una cosa molto simile in generale avendo visto Evangelion noto che i reachi hanno si ispirato molto anche per certe scene, per certi pezzi è un film d'avventura fatto davvero bene partiamo da quello che è incontestabile l'estetica che è molto molto bella è affascinante si vede che è una ghibli degli inizi non è sensazionalistica è semplice ma è davvero resa benissimo basti pensare alle scene di volo che sono bellissime ma anche c'è una scena di tempesta che è assurda ne parliamo meglio in parte spoiler dura due ore dura più rispetto ad altri film della ghibli forse quello che dura di più rispetto a quello è solamente per ora Mononoke però volano proprio perché c'è sempre qualcosa che succede ed è proprio il contrario di robe che adesso come Pony in cui non succede davvero un cazzo qui invece succede ci sono degli stilemi che sono molto classici quello del femminismo che è resa anche qui molto bene con la madre che capita è fatta capitano ho avuto questo lapsus fatta capitano ai figli che appunto sono tutti accondiscendenti e lei che appunto si ritroverà a essere diciamo l'antagonista del film ecco in parte non spoiler possiamo parlarne in questo modo e in generale comunque l'avventura che è affascinante ci sono gli esserini classi della ghibli c'è un easter egg a Nausica peraltro c'è uno che è identico c'è un robot c'è questa sensazione di mistero sul passato della ragazza e c'è anche questa meraviglia del mondo è un protagonista quello che abbiamo qui maturo che vuole andare verso l'avventura che vuole spingersi ed è davvero affascinante questa cosa perché è un film che riesce a coinvolgere specialmente nel finale che è davvero bello e ha un antagonista che è ottimo fa anche paura e delle ottime motivazioni quindi per me questo laputa io chiuderò velocemente in parte non spoiler per poi gettarmi meglio nella parte spoiler perché lì credo ci sia un po' di più da dire è davvero un film bello bello che rivedrei tranquillamente pieno d'avventura frizzante simpatico c'ha le sue cadutine ovviamente per gettare la battuta per far ridere i bambini come è giusto che sia perché è un film rivolto specialmente come a loro però il bello del cinema d'animazione ed è lì che io lo premio come ho premato Spider-Verse o altri quando riesce a essere adatto ai bambini ma anche appunto più maturo non cerchiamo a tutti i costi che ne sono un perfect blue però comunque questo è un film che un bambino può tranquillamente vedere ma che anche un adulto può tranquillamente vedere senza sfracellarsi le palle come può essere un turning red per dire quindi chiedo questa parte non spoiler consigliandovi di vederlo dicendo che un film che a me è piaciuto molto e quindi lo metto tra i film della ghibli che mi sono piaciuti e quindi adesso direi di iniziare a parlare un po' più con spoiler partendo da cosa partiamo va ecco i cattivi nella prima parte i cattivi sono prevedibilmente definiti come appunto questi bracconieri del cielo un po' in realtà come stava anche in Porco Rosso che è il mio film perfetto della ghibli finora e quindi tu dici vabbè sono loro sono quei cattivi un po' sciocchini perché c'è la solita gag ripetuta di figli che non sanno fare nulla arriva la madre ah in piastri ci penso io e fa tutto la madre ed è comunque resa bene per quanto siano quei nemici un po' più comici e dall'altra parte c'è l'esercito da questo generale che Anna che è appunto la protagonista che sembra cattivo ma non non sempre non proprio in fondo sembra che si muova più che altro per aiutare a sconfiggere questi pirati ed è interessante questa dinamica che poi alla fine tutto si spezza tutto viene mostrato è lui il cattivone è lui un parente un discendente anche della di Lapita e vuole ottenerlo e per me è reso benissimo perché è un villain che ti fa paura davvero è un villain che ti spaventa che capisci il suo volere il suo desiderio e soprattutto nel finale diventa un villain pericoloso solo per una cosa che vabbè semplicemente quando il ragazzo dice voglio solo parlare con lei vabbè ti do un minuto per parlare e lo avvicina in consiglio del fatto che potrebbe fare qualunque trucchetto tranquillamente però vabbè quella è una forzatura che mi ha un po' impastidito però tutto sommato ci passi davanti quando hai un film così bello e il punto è che c'è è bello che poi cambia si capovolge un po' tutto cioè i pirati diventano amici tanto in realtà se prima sono semplicemente quegli aiutanti dicono va bene tu starai con noi semplicemente perché possiamo aiutarti poi ci tengono davvero specialmente alla ragazza si instaura questo rapporto tra la madre e la ragazza che è interessante con addirittura che è questa simpatica di tutti i figli che dicono di si impare per lei si impare tra l'altro perché si innamora o dicono lei da grande diventerà come la mamma e diciamo che essendo di mammoni loro ci vanno subito dritti un'altra cosa che mi è piaciuta molto è l'idea dei robot ecco c'è quest'idea di questa parte del robot caduto per terra che è davvero Adam di Evangelion la scena di introduzione è la medesima ma in generale c'è un'inventiva anche il fatto che ci siano diversi robot in diverse condizioni il fatto che questo laputa sia stato abbandonato i robot abbiano sempre servito la natura sul robot quando stanno lì finalmente sul laputa compare l'animaletto di Nausicaa e questo è il biblicinematici universe collegato tutto quanto però non è la prima volta che gli animaletti compaiono in film se non sbaglio forse gli ispiri di Nausicaa compaiono no di Mononoke che comparivano da qualche parte nella città incantata o viceversa non ricordo però comunque c'è sto parallelismo che è carino con lo stesso volpino che aveva appunto Nausicaa e quindi è affascinante il caratter design è affascinante l'avventura la dinamica dell'avventura il fatto che si parta con questo grande inseguimento poi c'è anche questo svolta in cui l'esercito sembra prendere in mano la situazione dice aspetta l'aiuteremo noi ci penseremo noi tu puoi andartene ti diamo anche la ricompensa ed è interessante lì già vedi che può essere lui il cattivo perché quando vedi che c'è una situazione di troppo sottostallo dici vabbè qui c'è qualcosa che non sta andando bene ed effettivamente c'è qualcosa che non sta andando bene e abbiamo ragione perché appunto si scopre che lui è il cattivo la lore ecco la mitologia di questo laputa anche è fatto molto bene perché ci viene mostrato appunto c'erano introdotti tutti questi personaggi tutto questo regno attorno circostante che è molto ma molto bello e tutto questo diciamo background tutta la backstory è il protagonista che vede il padre che è in sua città infatti c'è quella scena nella nella tempesta che è bellissima anche solo per animazione che mischia varie tecniche di animazioni quindi comunque è avanti per per il periodo ci sono dei bei punti e come ho detto ci sono dei personaggi quali che affezioni e questa è una cosa importantissima di Pogna e Sos che non me ne fregava un cazzo potevano morire in quello stesso momento mentre qui invece ci sono due personaggi dinamici c'è il protagonista che non è un coglione anzi è uno che si mette in gioco quando ci sono i pirati che lo legano lui dice aspettate vengo anch'io perché magari non non sapete voi come raggiungere la la protagonista non ricordo i nomi mi spiace oppure quando eh lui rinuncia appunto tu riesci a vedere il suo malcontento e dall'altra parte abbiamo anche la protagonista che non è una piagnone e basta anzi è un'avventuriera anche lei è una che si addentra ed è questo quello che mi piace di più dei personaggi che abbiano tutti tridimensionalità abbiano una storia abbiano un motivo per il quale vogliono fare le cose c'è il riscatto emotivo c'è il riscatto personale nei confronti del padre e tutto ed è questo che è bello e che mi piace quindi sinceramente io sono soddisfatto di aver visto questo film che mi ha sorpreso mi ha convinto mi ha divertito prima di tutto perché c'è anche la chiave del divertimento e non mi ha annoiato anzi io avevo davvero paura perché temevo fosse una cosa più alla Nausicaa che a me mi spiace ma non è piaciuto è davvero quella sì è una trama di una banalità disarmante che annoia e con dei protagonisti che vabbè vogliono dare loro però basta mentre invece quindi temevo che magari oh no due ore e quattro quindi davvero ci si spara in bocca e invece no invece no perché divertente è questo che mi è piaciuto quindi sinceramente sono felice di aver visto questo film perché è un po' in consostanza in cui accade qualcosa in cui i personaggi hanno un evoluzione e sono questi quindi i film che gli piacciono non ironicamente quelli che mi sono piaciuti sono Porco Rosso e Mononocchie e il Castello Erante Diavolo e ora ci posso aggiungere questo ne ho visti 8 siamo 4 sì e 4 no ora vedremo un po' Totoro che ce l'ho tra poco infatti nei prossimi giorni slash settimane questo film l'ho visto un paio di settimane fa quando ero uscito al cinema quindi scusate ma sono stato abbastanza impegnato da che sono a Milano anche a registrare recensione e fare tutto però sono soddisfatto di averlo visto e voi che ne pensate di questo di questo sì stavo per dire Mononocchie vabbè di questo Laputa il Castello nel Cielo vi è piaciuto per me concludendo sì un film con animazione davvero bella semplice ma non troppo perché mi schiava di generi una storia bella avventurosa di personaggi con carisma e rivoluzione un bell'arco narrativo una bella backstory sia di personaggi che appunto del 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 castello nel cielo è un finale che diciamo colpisce dai è davvero ben fatto quindi signori è questa la Ghibli che mi piace non è Kiki non è Ponio non è Nausicaa come ho già detto ma anche a me non comincia nemmeno la città incantata quindi è questa la Ghibli che mi piace su tutta non farmi stroncare Totoro vedremo un po' ci vediamo alla prossima arrivederci